Cari amici, videoscocatori, giocatori, cinefili, incalliti, sono qui a proporre una bellissima offertona. Quindi 10 DVD di Stalio e Aonlio a 3 euro cada ognuno. Se qualcuno li vuole prendere tutti, uno gratuito. Allora, intanto questi DVD costano ancora, se si prendono nuovi, hanno ancora un prezzo, insomma, diciamo quasi come gli altri. E poi è una comicità che è senza tempo, quindi è un film che potete rivedere sempre in famiglia da soli, con i figli, con i genitori. Sono quelle comicità per paragonare a Bud Spencer e Terence Hill, in pratica, che io odoro svisceratamente. Quindi niente violenza, niente sesso, niente parolacce e si possono vedere decine e decine di volte. Quindi, eccoli qua, i 10 DVD di Stalio e Aonlio. E, piccola curiosità, non so se tutti lo sapete, chi era il doppiatore di Aonlio? Quello chiaramente più corpulento. Era il nostro mitico, indelebile, fotonico Albertone. Alberto Sordi. Se la prossima volta che magari li sentirete, lo sentirete, sentirete subito il suo timbro di voce inconfondibile. Il mitico Alberto Sordi. E, naturalmente, ogni chiusura del mio video, dei miei video, è con Arrivedoci, che è un omaggio di cuore a Aonlio e anche a un'altra persona, ma questa è un'altra storia. Bene, io vi saluto e insieme al mio amico, aspetta che sei un po' perso qua, eccolo qui, insieme al mio amico... Certo qui, o Aici a tutti, e... Arrivedoci! 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 Grazie.